Il primo portabiglietti da visita illuminato con pile di terra ha realizzato un prototipo da perfezionare in questo caso luce blu si illumina da sopra cioè diciamo da qui sopra si può più che illuminare si può sostanzialmente bagnare in modo che mantenga sempre attiva la luce questo è ultra potente nel senso ho tolto tensione ma dovrebbe avere durata di molti mesi quindi diciamo che il progetto mi ha costato un po di più ho fatto un po meno luce blu probabilmente anche se già abbastanza intensa ma dura diciamo sacrificato un po di luce per la durata che comunque dovrebbe essere molto molto elevata settimane se non mesi